Crescono le imprese femminili in Abruzzo, nelle province di Teramell'Aquila, c'è stato un incremento dello 0,04% dal primo al secondo trimestre di quest'anno. Cresce anche l'occupazione delle donne? Sì, effettivamente negli ultimi anni comunque le province di Teramell'Aquila e dell'Abruzzo in generale si sono attestati come numeri superiori rispetto alle percentuali che in Italia ci sono, di almeno 3-4 punti percentuali. Quindi questo è un dato importante sul quale dobbiamo lavorare ovviamente per spingere maggiormente le imprese femminili ad esserne sempre di più e anche numericamente parlando più importanti e più evolute da un punto di vista anche del fatturato, della crescita di ogni singola azienda. La Camera di Commercio del Gran Sasso agevola proprio l'imprenditoria femminile anche attraverso dei bandi? Sì, a partire dal 24 di questo mese, dal 24 settembre, è possibile fare domanda per dei bandi che sono dedicati alle imprese femminili, alle imprese under 35, quindi per i giovani. Abbiamo dedicato un plafond di 140 mila euro a fondo perduto che le imprese possono appunto attingere, fino ad un massimo di 3 mila euro per ogni azienda verrà quindi erogato questo contributo. È una nostra risposta comunque, una nostra attenzione a queste categorie e soprattutto anche con il Comitato di Imprenditoria Femminile che abbiamo da poco costituito, faremo insieme al Comitato delle iniziative molto belle e molto importanti proprio per sviluppare sempre più quello che è, come si dice, l'empowerment femminile, cioè quello di comunque creare un tipo di aiuto, se vogliamo, alle aziende femminili, ma soprattutto noi siamo così, un po' per quel late motive che mi piace molto, che dice ti racconto una storia, lei alla fine ce la fa.